Pronti amici e amiche carissime, bentornati per questa nuova puntata dedicata alle domande sul dono della divina volontà, io sia all'inizio che se mi ricordo anche alla fine mi permetto di ricordare di nuovo anche in questa puntata il ciclo di trasmissioni Instagram che sta facendo la cara amica Deborah Vezzani il venerdì sera, la prossima puntata sarà venerdì prossimo ha invitato il sottoscritto come ospite, quindi vedremo che cosa ci inventiamo, è una puntata in cui lei presenta un po' il making of del suo ultimo brano sulla divina volontà che abbiamo sentito come introduzione alla trasmissione della settimana scorsa che è il prodigio dei prodigi e c'è un ospite che sceglie una frase della canzone, io anche l'ho scelta e poi c'è una diretta anche interattiva dove si possono fare domande, insomma è come quella che stiamo vivendo con i numeri un pochino superiori rispetto a quelli del mio piccolo canale di Instagram e quindi volevo tutti quanti invitarvi a questo appuntamento che poi proseguirà per diversi altri venerdì con illustri ospiti e interlocutori, quindi vi invito chi può e chi è interessato insomma ad essere presente cominciamo la risposta alle domande, scrive Chiara Leonilde Allora, l'atto preventivo è un testo scritto, Chiara Leonilde, quindi bisogna recitarlo così come sta scritto e nell'atto preventivo certamente si chiama Gesù in tutte quante le nostre facoltà ma la risposta alla sua domanda è ancora più chiara dall'atto di fusione esteso che anche quello è scritto dove si dice chiaramente mio Gesù mi fondo tutto nella tua santissima umanità e divinità Gesù è uno, d'accordo, con due nature quindi non si possono scindere la natura umana e la vita divina si possono distinguere ma non si possono scindere Gesù mi fondo tutto nella tua santissima umanità e divinità parte per parte perché la tua umanità per centro la divina volontà e che vi venisse a vivere in questo centro diffondendo luce comunque a tutti e poi prosegue, fondo la mia intelligenza nella tua intelligenza la mia memoria nella tua memoria la mia volontà nella tua divina volontà quindi a tutte le domande che sta facendo c'è già la risposta nell'atto di fusione che è un altro degli atti scritti che ci aiutano che non vanno mai disprezzati perché nella vita nella divina volontà valgono un pochino le regole che valgono per la preghiera in generale Santa Teresa Davila dice che quando si prega certamente i gradi superiori della preghiera sono i gradi superiori quindi la meditazione la contemplazione e poi i vari gradi di orazione infusa è chiaro che sono superiori alla preghiera vocale quindi il Padre Nostro e l'Ave Maria ma Santa Teresa dice guai a chi si azzarda siccome qualche volta vive un momento particolare di orazione a pensare che possa fare a meno del Padre Nostro e dell'Ave Maria quindi anche nella divina volontà se è vero che ci può ci deve essere come dire un largo spazio per la nostra creatività nel senso che una volta che uno ha capito cos'è l'atto preventivo e cos'è l'atto di fusione può liberamente compiere questi atti dinanzi a Dio quindi un po' come diceva Sant'Agostino per quanto riguarda posso fare un'altra preghiera oltre al Padre Nostro e certamente puoi pregare a parole tue ma devi dire le stesse cose quindi il Padre Nostro è una preghiera normativa perché ci dice che cosa possiamo e dobbiamo chiedere a Dio certo se anziché dirgli sia santificato il tuo nome gli dico al Signore fammi diventare santo dammi l'eroismo in tutte le virtù fammi diventare un perfetto discepolo di Gesù fammi praticare con perfezione le beatitudini gli sto dicendo la stessa cosa ecco però gli sto sempre chiedendo che sia santificato il suo nome e ciò che io diventi santo quindi questi atti scritti sono importantissimi da fare sempre perché ci riportano sempre al cuore e ci riportano sempre ci stimolano ad avere un parametro a cui fare riferimento anche quando ci muoviamo con una certa libertà così come per esempio per imparare a fare i giri le ore della passione l'ho detto tante volte e il più pellegrinaggio dell'anima nell'operato del divino e volere sono importantissimi perché sono un'introduzione a questa forma particolare di preghiera così come sentire fare qualche giro da qualcuno aiuta specialmente chi ancora non è molto pratico a capire un po' il concetto poi si muoverà diciamo così con le gambe proprie con le ali proprie con il cuore proprio e con e con la disinvoltura propria è facile dire vivere nella piena volontà però dopo ci si può per ridurre praticamente a vivere soltanto d'accordo con la volontà del padre scrive Fiat Volontatua in cosa consiste realmente vivere nella volontà divina allora Fiat Volontatua la volontà del padre la volontà del figlio e la volontà dello spirito santo sono la stessa e medesima cosa non ci sono tre volontà nella Santissima Trinità la divina volontà è una ecco che cosa significa vivere nella divina volontà in due parole ci sono 36 volumi Fiat Volontatua dove Gesù spiega cosa significa dire nella divina volontà io nel mio piccolo insomma ho già fatto non so quante ore insomma tra catechesi e meditazioni stiamo ancora in alto mare insomma quindi non è cosa che si può dire in una risposta come dire interattiva da tre minuti quattro minuti cinque minuti massimo come può essere in questa trasmissione quindi vivere nella divina volontà vuol dire vivere la vita del cielo sulla terra perché in paradiso si vive nella divina volontà detto in due parole vivere nella divina volontà vuol dire compiere con perfezione ciò che Gesù ci ha detto di chiedere nel Padre Nostro venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra la risposta diciamo così immediata è questa il problema è che cosa significa vivere cioè che il regno di Dio venga cioè che la divina volontà regni in me e che io non soltanto faccia la divina volontà ma la faccia sulla terra come se va in cielo d'accordo quindi questa non è cosa che si può dire in in un batti capito in una botta in risposta da da cinque secondi ci servirebbe quantomeno un'oretta dedicata soltanto a questo però io adesso non vedo sotto insomma se ci sono altre domande perché se non ci fossero altre domande posso anche riprendere insomma altrimenti partiamo con tutta la trasmissione soltanto dedicata a questo tema no quindi per introdursi in questo mondo bisogna avere un pochino di pazienza non bisogna avere fretta bisogna dedicargli spazio tempo energie lettura meditazione ascolto se uno ha tempo quindi se perché ci sono dei passaggi in cui uno deve essere aiutato ascolto soprattutto come dice Gesù con tutto il rispetto doveroso per i fedeli laici ma Gesù parla esplicitamente negli scritti dell'azione dei sacerdoti che devono compiere per diffondere il dono ma non soltanto per una forma come dire doverosa la chiesa l'ha fatta lui quindi è chiaro che chi ha il ministero istituzionale della predicazione dell'insegnamento deve è la persona più qualificata a fare questo ma anche perché un sacerdote deve avere le competenze anche teologiche necessarie per far comprendere bene alcuni passaggi alcuni concetti che potrebbero non essere di immediata comprensione per un fedele laico che non è detto insomma che abbia una così grande cultura teologica come dovrebbe avere un ministro di Dio ecco perché c'è questa c'è questa opzione fermo restando che evidentemente come tutte le cose ci sono dei fedeli laici e delle fedeli laiche che ci sono applicati con entusiasmo hanno studiato hanno ascoltato hanno compreso e quindi sono capaci insomma un po' almeno di parlare e di dire qualcosa in merito Anna Pandolfi scrive alcune volte Donno non riesci a fare tutti i giri nella creazione e nella redenzione è normale allora tutti i giri nella creazione cioè tutti i giri nella creazione e nella redenzione Anna che c'è in maniera come dire molto sintetica ma ci vorrebbe da campare per tutta l'eternità d'accordo io ho cominciato a a mettere in giro tolgo l'occasione insomma per per comunicarlo anche in questa sede lo comunico generalmente sul mio canale telegram tra l'altro stamattina ho fatto un aggiornamento che non è anche comunicato mi viene in mente adesso allora io per aiutare le persone un pochino a a entrare un po' ho creato tre podcast distinti uno si chiama i giri nel fiat creante uno si chiama i giri nel fiat redimente e uno si chiama i giri nel fiat santificante appunto per aiutare un pochino le persone quelle non sono come dire quello è il giro cioè per esempio il giro nel vento stamattina ho fatto il giro nel vento quello non è come dire l'assoluto quello è un giro nel vento cioè perché la creatura vento è l'atto di volontà che è depositato in quella creatura come uno lo percepisce come uno lo coglie come uno ci entra come uno lo ricambia risente come dire di sensibilità molto molto personale per cui certamente quello è un uno tra i tanti che può chi lo dovesse ascoltare o anche farlo proprio quindi unendosi al modo con cui io l'ho pregato aiutarlo ma è uno non è il giro nel nel vento d'accordo è un giro nel vento le opere della creazione della redenzione cioè capito uno può per esempio fare un giro nelle piante va bene nel mondo vegetale così molto molto generico ma e se uno volesse fare un giro nelle querce nei pioppi nei pini i primi che mi vengono in mente ci rendiamo conto di quante distinte opere della volontà divina ci sono non soltanto nelle specie vegetali animali nelle costellazioni nelle galassie ma anche dentro la specie negli individui cioè chi ha gli animali questo se ne rende perfettamente conto gli animali sono degli individui veramente veri e propri cioè non sono chi ha avuto gli animali io ho avuto diversi cani in passato adesso mi sono piombati dentro casa un paio di micetti se li osserva vedrà che ogni animale certamente io ho avuto tutti gli altri pastori tedeschi quindi sono sono pastori tedeschi ma tutto morfologicamente non trovi uno uguale all'altro si vede che sono pastori tedeschi ma è un individuo c'ha i suoi tratti caratteristici c'ha il suo sguardo c'ha il suo portamento c'ha tutta una serie di caratteristiche personali e c'ha il suo carattere chi è più aggressivo chi è più dolce chi ha i suoi modi di fare che ha anche gatti c'hanno i loro modi di esprimersi d'accordo che sono molto molto personali perché quello è un individuo della specie irripetibile anche lui quindi come si fa fa tutti i giri la creazione la redenzione lo facciamo qualcuno d'accordo ecco come dice il libro della sapienza di tutte le infinite opere dell'altissimo noi poi ne conosciamo pochissime quindi su questo come la spirito santo ci ispira insomma quando ci ispira si può fare un giro come dire molto esteso ma anche un giro estemporaneo quindi molto molto anche in tre secondi uno può fare un piccolo giro in una creazione nel canto però che ha fatto quell'uccellino che non so manco chi è è simile al canto di tanti altri uccellini ma è quello d'accordo ecco quindi spero di di aver fatto comprendere Giamma Laurenti se non riesco bene a comprendere il fondamento teologico della sofferenza di nostro Signore Gesù Cristo per i sacramenti sa chiedere che sebbene adesso sia nella gloria giù assurda del paradiso eh figlio allora caro Giamma Laurenti cioè ci sono molte cose quando ci si avvicina all'altissimo come diceva il buon Sant'Ommaso numero uno non bisogna avere schemi mentali rigidi perché lo schema mentale rigido non può funzionare perché noi di Dio non sappiamo quasi niente io almeno non so quasi niente non dico niente perché sarebbe proprio niente niente è una menzogna ma io povero prete insomma che ha studiato per tanti anni la teologia eh tanti anni d'accordo tuttora studia in continuazione legge d'accordo ma io di Dio non so quasi nulla cioè quando mi trovo anche dinanzi agli iscritti io molte volte rimango come dire abbagliato da una luce che percepisco evidentemente sorpassarmi immensamente si coglie qualcosa si comprende qualcosa ma si mica capisce tutto eh sarò stupido se c'è qualcuno che capisce tutto io sono tutto orecchi mi fa molto 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 piacere quindi noi non possiamo procedere con schegni quindi pensare allora Gesù sta in paradisi in paradisi c'è la visione beatifica non si soffre poi lui è Dio quindi com'è possibile che soffra un sacramento sacrilego c'è qualcosa diciamo però quello che lui se lui dice il contrario vuol dire che questo schema mentale non funziona quindi e noi non possiamo capire bene come questo funziona per il motivo molto semplice che io Dio non ci sono capito io non lo so cosa significa essere Dio e cosa significa stare in 50 miliardi di ostie consacrate e cosa significa sapere che un'ostia consacrata in cui mi trovo finirà in un'anima che sta in peccato mortale cosa significa questo qui cioè noi non lo possiamo capire questo qui quindi prendiamo atto non solo di quello che dice Gesù Gesù dice che soffre che soffre tantissimo d'accordo e che attende la riparazione di amore nella divina volontà di chi ha il cuore e l'amore verso di lui di farla questo ci deve bastare noi non possiamo come dire avvicinarsi all'altissimo con la pretesa di sicuramente non è una pretesa io che capisco cioè tante volte l'ho fatto anche io quello che fa Giamma Laurenti parlo così perché ho quasi 50 anni d'accordo e quasi 16 di sacerdozio prima non parlavo così ecco come dice San Paolo quando ero bambino parlavo da bambino ragionavo da bambino ma divenuto uomo ecco tante volte ho detto no adesso con queste storie multimediali è anche possibile insomma seguire gli iter di crescita se uno vede se c'è una persona come me come qualche altro sacerdote che è stato sul web per tanti anni se uno fa un ascolto diacronico quindi sento una cosa del 2013 dici nel 2021 al 2020 coglie una certa differenza non un totale credo stravolgimento d'accordo un totale stravolgimento sarebbe un po' troppo ma certamente delle modularità che sono differenti perché? perché si cresce nel corso guai a chi rimane tutti quanti si cresce si rilambora si matura ci si perfeziona cioè questo cioè Sant'Alfonso Maria degli Cuori vescovo e dottore della chiesa nelle opere che scriveva in età matura confessava candidamente guarda che in quello che ho scritto nella mia prima opera di teologia morale mi sono sbagliato lo diceva proprio candidissimamente senza nessun problema perché quell'opera l'ho scritta quando avevo 40 anni non avevo l'esperienza dei 25 anni di confessionale oltre che le tante nozioni intellettuali no? quindi d'accordo quindi non è possibile cioè le domande certamente possiamo e dobbiamo farcele entro certi limiti però perché ci sono delle cose che non che non che non che non possiamo sfondarle quindi perché non possiamo comprenderle diceva Sant'Agostino si comprendis non est Deus cioè se tu lo comprendessi non sarebbe Dio perché noi per poter comprendere qualcosa o qualcuno per comprenderlo etimologicamente significa prenderlo con quindi è come se una cosa ecco tanto si vede tanta ci faccio così ma per fare così su una cosa vedete la mia mano deve essere più grande del mio pugno chiuso se no non potrei prenderlo perché se io la mia mano di sotto l'apro completamente non riesco già già prefiguriamoci Dio che è qui dell'infinito no sempre Sant'Agostino narra credo nelle confessioni se non ricordo male quella visione che ebbe di quel bambino che stava sulla spiaggia del mare scena che forse abbiamo fatto tutti quanti che andavamo piccolini aveva fatto una buca vicino alla riva e dopo di che io lo facevo col secchiello cioè questo addirittura con la conchiglia andava dentro il mare prendeva un po' un po' di mare lo portava dentro la buca poi tornava Sant'Agostino dice scusa bambino ma che stai facendo io voglio mettere tutto il mare dentro la buca con la conchiglia a parte con la conchiglia non riempi mai con la buca ma come pensi che il mare entri dentro una buca il bambino dopo di che si è trasformato perché era un angelo dice sì e tu come pensi di mettere Dio che è il grande infinito dentro la capocetta eppure Sant'Agostino è stato un genio d'accordo Sant'Agostino ha scritto e tante di quelle io non so come ce l'ha scritto tutte queste cose a quei tempi senza computer sì che c'erano gli avaluensi ma Sant'Agostino uno vede la biblioteca l'opera omnia di Sant'Agostino come dire mi riempirebbe tutti quanti tutte le librerie che ho dentro la mia camera sarebbero tutte pliene con i suoi volumi come gaspita ha scritto ma come ha fatto però l'ha scritti quindi eppure la sua conoscenza di Dio era poco più che niente non si offende Sant'Agostino dicendogli questo d'accordo buonasera padre Luisa Piccarretta Vicendi era nella linea volontà come mai viene attaccata dal maligno allora Luisa ha avuto dei grossi e drammatici scontri con il maligno prima se ne trovo la descrizione nel primo volume se non ricordo male credo che sia durata un paio d'anni ma terrificanti bisogna andare a leggere dopodiché per quanto ho potuto constatare sono arrivato al volume 34 ormai è quasi finito ci sono sporadicissime diciamo così incursionsine minori qualche piccolo dubbio mi è venuto il dubbio che tutta questa roba venisse dal diavolo ma cose molto 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 superficiale quindi se si vive nella divina volontà certamente che il diavolo possa avvicinarci per provare a tentarci l'ha fatto con Gesù e con Maria insomma quindi ma che sia destinato a tornarsene a casa con le ossa rotte quando si vive a fondo nella divina volontà hai altrettanto in dubbio il problema è che prima di viverci a fondo a fondo ce ne vuole insomma non è un gioco da ragazzi un gioco da ragazzi no una cosa come dire per certi aspetti relativamente semplice è cominciare ad entrare in questo mondo perché basta volerlo con tutto il cuore quindi volerlo con tutto il cuore è sufficiente per cominciare a entrarci volerlo veramente quindi volerlo non soltanto insomma però poi poter dire parte il fatto che poter dire io vivo nella divina volontà la ritengo una cosa moralmente impossibile d'accordo a meno che non ce lo rivedi qualcuno dall'alto è come lo stare in grazia di Dio no? il concilio di Trento anche questo l'ho detto tante volte ma ripetiamo ha proprio sancito come verità di fede che nessuno può affermare con certezza di essere in grazia di Dio nessuno io posso sperare presumere di stare in grazia di Dio non essere sicuro al cento per cento perché nessuno mi assicura che io abbia confessato tutti e bene i miei peccati mortali nessuno mi assicura che ne sia realmente pentito e quindi che sia stato perdonato cioè questo non vuol dire che uno adesso si mette e si aggetterà nel panico o cose di questo genere ma cioè è chiaro che io lo so in coscienza se non ho nascosto nessun peccato se ho un pentimento sincero se combatto i peccati se fungo le occasioni eccetera eccetera posso ragionevolmente pensare insomma di stare in grazia di Dio sperare ma quindi un conto è ragionevolmente pensare un conto è sperare un conto è esserne sicuro al cento per cento ecco perché dicevo nella meditazione di questa mattina quando muore qualcuno si può mica dire è volato al cielo ma chi ha detto volato al cielo ma chi te l'ha detto a te ma non lo sai manco tu se voli al cielo come fai a dirlo di un altro la chiesa prima di canonizzare un santo ci mette anni ci mette perché sì possiamo anche ma ci vogliono prove su prove su prove attestati testimonianze scritti prove delle virtù tribolazioni esame degli scritti primo miracolo secondo miracolo quindi deve dare un ultimo segno deve darlo nostro signore cioè che fa una cosa straordinaria attribuita all'intercessione prima del venerabile e poi del beato capito quindi ecco perché la chiesa è così cauta ecco e per esempio la chiesa non dice a parte che non gli interessa ma non dice con certezza di nessuno che è andato all'inferno perché? perché dovresti averci le prove qui dovresti andare a fare le verifiche di tutti i peccati mortali che uno ha fatto capito? e che non si è pentito fino all'ultimo istante e che Dio non l'abbia tirato fuori per rotto della cuffia dall'inferno verso cui era incamminato che sappiamo queste cose qui ecco quindi d'accordo quindi le tentazioni è sempre possibile ma contro chi vive nella divina volontà il diavolo torna con le ossa rotte e non solo torna con le ossa rotte ma a un certo punto la pianta propria perché siccome lo è superbo non è mica tanto contento di essere messo sotto i piedi da da una povera creatura come noi anche se in forza della potenza del volere divino quindi si stufa e e si va via buonasera Leonardo volevo chiedere se si può fondere in Maria evidentemente sì l'atto di fusione anche in Gesù raggiunge la sua divinità certamente ma parte dalla sua umanità fondiamoci a vicenda nella volontà nel desiderio e nell'amore i desideri fanno parte dell'umanità di Gesù l'amore fa parte dell'umanità di Gesù la volontà umana fa parte dell'umanità di Gesù la memoria di Gesù fa parte della memoria umana l'intelligenza è l'intelligenza umana lo sguardo l'olfatto la voce l'udito le mani i piedi il palpito il respiro la circolazione del sangue sono tutte cose attinenti all'umanità di Gesù ora la Madonna sappiamo benissimo che è la regina del regno della divina volontà seduta a fianco al re non è una dea per natura evidentemente questo repetita juvent è sempre meglio per evitare devozioni disordinate nei confronti della Madonna e chiedere sempre bene è la piena di grazia però e lo sappiamo dagli scritti che lei ha custodito intatto ha fatto quello che non hanno fatto i nostri progenitori ha fatto quello che non farà mai nessuno sul pieno da terra perché preso il dono della divina volontà con l'immacolata concezione lo ha mantenuto integro negli scritti si legge che quando è entrata in cielo dice ma chi è questa creatura non l'avano mai visto una che viene dall'esilio e che si porta in cielo custodito il dono della divina volontà è madre nell'ordine della grazia di tutti noi vera madre cioè stando alle cose che la chiesa ha già definito perché poi altre sono in via di definizione quindi possiamo anche si può anche come dire dubitarne ma che la madonna sia la madre di tutti nell'ordine della grazia questa è cosa antichissima quindi come non si può certo che si la madonna ieri era la festa di San Luigi Maria e Monforte già San Luigi aveva capito che unirsi profondamente con Maria significa unirsi profondamente con Gesù un'anima devota alla madonna trova tranquillamente nell'unione con la madonna e nella fusione con la madonna e nella fusione con la divina volontà io personalmente non ho proprio assolutamente nessun dubbio francesera 88 salve guardare film e serie tv che hanno linguaggi scurri di violenza può essere riprendita per la vita spirituale allora francesera una gentilezza adesso io le rispondo perché non ho scritto qui tra l'altro il titolo ecco vedete mea culpa qui bisogna scrivere su instagram perché non consente di dare il titolo ecco il titolo perché questa francesca sera è una trasmissione dedicata alla divina volontà non è come quella di lunedì sera dove rispondo a tutte queste domande diciamo un pochino più generiche no siccome i miei followers e i miei amici sanno che io sono particolarmente sollecito anche nel tema della divina volontà però questa è una cosa un pochino particolare no che potrebbe non interessare tutti quanti no e allora abbiamo fatto quest'altra trasmissione che è dedicata soltanto alla divina volontà quindi io comunque adesso le rispondo sperando che riesco a ritrovarla e poi però facciamo domande attinenti a questo tema non la trovo più mamma mia domande stanno ancora allora comunque diceva se serie tv e film allora io per esempio per quanto riguarda le serie tv e film ci sono delle cose che non si possono proprio guardare cioè ci vuole un pochino di discernimento a mio avviso allora io personalmente dico da sacerdote che non è accettabile quindi bisogna fare qualcosa o guardare da un'altra parte inventarsi qualcosa però dipende anche dal vedere film o serie tv dove ci sono scene di sesso esplicito questo non si può d'accordo per quanto mi mi riguarda per quanto riguarda la violenza qui bisogna come dire ponderare fare anche delle considerazioni relative all'età della persona alla sensibilità come dire e al e al contesto se c'è una serie poliziesca generalmente una serie poliziesca certo come le fanno oggi le scene insomma le sparatorie e cose di queste sono molto molto realistiche a volte c'è una violenza che assorge a limiti che chi la vede prova un certo fastidio quindi bisogna recuperare un discernimento personale la scurilità mi avviso anche lì è difficile trovare io ho visto purtroppo devo dire insomma anche qualche materiale prodotto anche da ambienti diciamo così per non farmi troppo capire vicino al cristianesimo dove c'erano delle scurilità poche ma ci sono delle opere d'arti per esempio il signore degli anelli è una mia passione che sono due trilogie fantastiche io non ho sentito una sola parolaccia in tutte quelle una fantastico se in una serie ogni tanto gliene scappa qualcuna cioè c'è differenza perché ci sono delle serie prodotte da certe cacchi ma che è un continuo e ci sono delle serie dove una volta ogni due o tre puntate si sente qualche cosa che non funziona allora lì mi privo di una cosa bella per una parolaccia quindi occorre fare un discernimento caso per caso alla luce però anche delle circostanze personali e soggettive cioè come mi sento io dopo che ho visto certe cose cioè è una cosa che mi procura come dire un divertimento tranquillo un relax tranquillo oppure mi turba poi ci penso tutta la giornata mi ritornano in mente certe come dire scene magari violente oppure certe espressioni alla luce di tutto questo uno deve riscernere davanti a Gesù e comprendere insomma se nella divina volontà è possibile concedersi questo divertimento o se è meglio evitare d'accordo quindi salvo quando ci siano delle cose che sono proprio palesemente violentemente immorali e lì bisogna astenersi va bene questo lo possiamo saltare Roberto Giacomini 1610 non è molto conosciuto a Luisa anche da sacerdoti per la sua portata perché per due motivi perché Dio ha i suoi tempi e i suoi momenti Roberto Giacomini ha i suoi tempi e i suoi momenti uno quindi adesso cominciano a diffondersi un pochino secondo perché sicuramente il diavolo fino a quando potrà quindi fino a quando nostro signore non 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 vincerà le sue diavolerie sicuramente fa il diavolo a quattro perché queste cose non siano conosciute assolutamente perché lui non c'è niente che tema di più quanto la divina volontà e quindi farà il diavolo a quattro perché questa cosa non sia diffusa o sia screditata o ci siano problemi di vario tipo sicuramente metterà tanti bastoni tra le ruote lui sta già mettendo insomma nel cammino nell'iter di santificazione di Luisa eccetera eccetera ma si va avanti perché questa è un'opera divina e Dio saprà come portarla avanti e come portarla a realizzazione insomma no regina Maria Amata chiede nell'era dell'amore che aspettiamo tutti vivremo nella divina volontà per nelle prove del mare e regnerà sulla terra prima del ritorno di Gesù allora troppi dettagli non si possono diciamo così conoscere sono quelli che Gesù dice il regno della divina volontà lui ha detto che è decretato che debba venire sulla terra ed è un regno nel quale detto in due parole come ha detto Frappio che saluto se dovesse arrivare questa cosa insomma non credo che c'è altre cose a cui pensare nella trasmissione di Tempolo di venerdì scorso in due parole ha detto con il regno della divina volontà saranno sbanditi tutti i mali e arriveranno tutti i beni questo è quello che è promesso e poi verrà evidentemente però come dove quando non ha molto senso a mio avviso stare troppo a fantasticare insomma quindi facciamo in modo l'unica cosa senza dare da fare adesso è che se lo desideriamo cerchiamo di far regnare la divina volontà in noi con tutto quello che poi personalmente potremo cominciare a constatare e il resto dipende dal nostro apporto quindi anche da quanto ci impegniamo noi da quanti atti anche noi facciamo e dall'azione che Dio farà per instaurare questo regno peale intanto noi ecco nel padre nostro in ogni caso lo stiamo chiedendo in continuazione buonasera padre quando si provano sentimenti come gelosia e invidia come poterli vivere nella divina volontà come poterli vivere nella divina volontà bisogna chiedere alla divina volontà che li distrugga dal nostro cuore e che li tolga queste non sono cose che vengono dalla divina volontà ma sono cose che allontanano dalla divina volontà certamente nella divina volontà bisogna cominciare a fare dei buoni questo l'ho detto tante volte soprattutto nelle meditazioni su primi dieci volumi che sono molto che sono molto importanti bisogna fare un'opera progressiva di e dolorosa attenzione eh di introspezione cioè gelosia perché invidia perché cioè non basta già tanto che noi ci accorgiamo e prendiamo atto delle nostre passioni questo non lo fanno tutti ma qualcuno si deve arrendere almeno di fronte all'evidenza ma perché faccio così è questa una domanda che bisogna porsi perché se ci sono delle aree ferite dentro di noi noi dobbiamo essere sanati lì dentro altrimenti nella divina volontà al cento per cento non ci vivremo se ci sono dei tagli da fare bisogna farli se ci sono delle scelte da fare bisogna farle se ci sono delle rinunce da fare bisogna farle se ci sono delle potature da fare vi assicuro che ci sono bisogna farle d'accordo vivere nella divina volontà è l'opera delle opere la santità delle santità d'accordo quindi si arriva si deve arrivare a un grado di raffinatezza anche della coscienza e quindi di santità immenso immaginate la la Madonna la vita è la santità della Madonna capito e quindi piano piano però l'obiettivo è quello fiafiefi scusa forse non ho pronunciato bene se faccio il giro nel fiat piante redimente ho compiuto anche quello santificante o quello santificante altro è diverso anche qui certamente vanno distinte queste cose non proprio in maniera troppo perché il fiat santificante che è il terzo fiat dipende dai primi due perché il fiat santificante non è altro che lo sviluppo fino all'ultimo diciamo così chiamiamolo grado di maturazione di ciò che Dio ha voluto nella creazione che è stato intoppato dal peccato dell'uomo e che è stato ripristinato quindi recuperato attraverso la redenzione certo che le opere del fiat santificante come dire sono distinte da quelle del fiat redimente e da quelle del fiat creante ecco si imparano piano piano facendole queste distinzioni no se ci si dimentica di fondersi prima di compiere un altro si può farlo prima di terminarlo si può fare sempre tutto quindi adesso non ha molto senso quando si fa l'atto preventivo e se si fa l'atto di diffusione almeno una volta al giorno la cosa cioè seguire tutti quanti gli atti quindi più si fanno meglio è però capite che è molto difficile a meno che non ci sia una grazia straordinaria e ci vorrebbe un'attenzione veramente esorbitante stare in continuazione a fare queste cose no? cioè la mia vita noi siamo legati all'attimo presente e l'attimo presente scorre in continuazione cioè come farei io adesso per ogni parola che dico dico viene Gesù in questa sillaba d'accordo? quindi prima di fare un'azione uno fa una fusione fa un atto e poi li moltiplica quanto quanto più riesce quanto più può sempre con calma e Dio vede anche come dire l'attenzione del cuore no? quindi vivere né la divina volontà non è solo e forse neanche principalmente avere come dire questa attenzione un po' quest'ansia da prestazione no? è un fatto profondo d'accordo? è una scelta profonda perché Dio lo vede se la mia opzione fondamentale quindi la mia ferma volontà in tutto quello che faccio è di provare come posso e come riesco in base alla coscienza che ho adesso a fare stare nel suo volere ma è chiaro che più si moltiplicano gli atti e più bene si fa e meglio è Fiat volontà tua padre si può dare un consiglio come costarsi gli scritti di Luisa gli scritti di Luisa vanno letti dal primo all'ultimo volume in ordine e tutti riga per riga se c'è bisogno di approfondimento e comprensione bisogna cercare in giro i non pochi sacerdoti che stanno facendo quest'opera di spiegazione e di meditazione degli scritti lo faccio anche io non sono l'unico ripeto i nomi più che io conosco però non vorrei mancare di riguardo cioè Don Pablo Martin padre Pio Maria Cianci padre Gheri anche se adesso insomma è abbastanza grandicello che un pochino ovviamente tra gli esperti di divina volontà c'è anche il mio carissimo amico Don Pierpaolo Maria Cilla che ha una grande esperienza una grande competenza sugli scritti di Luisa poi c'è Don Massimo Pelliconi che so insomma che si sta molto addentrando questi sono quelli che conosco ma ce ne saranno molti altri sono quelli che conosco più o meno io purtroppo non ho tantissimo tempo come mi piacerebbe anche di andare in giro a sentire a fare perché vedete insomma cerco di lavorare un po' di pregare un po' quindi non mi rimane molto tempo quindi chiedo subito perdono a qualche confratello che non avessi diciamo nominato in questa lista esemplificativa ce ne saranno sicuramente tanti altri quindi andate insomma in giro un pochino altri e sicuramente molto autorevoli quindi c'è qualcosa e quindi rimboccarsi le mani piano piano sono 36 volumi cioè io che gli dedico insomma diverso tempo quindi ho preso molto molto a cuore questa cosa sono tre anni che sto leggendo tre anni e qualcosa ancora non ho finito perché questo poi non è un romanzo non è quello che si può prendere se ne ha giù un volume al giorno non serve a niente fare una cosa di questo genere perché ogni scrittore è molto molto denso quindi l'ho fatto come lettura spirituale quindi come lettura attenta d'accordo dove si cerca di trattenersi qualcosino di fermarsi un attimino ecco merinda mela ma basta se ho fretta a dire viene di una volontà pregare in me io mi fondo mi sperdo in te o sempre devo leggere l'attivisione in te certamente che basta basta va bene gli atti estemporanei si fanno in maniera molto molto veloce va bene avere a cuore questo ce l'ho a cuore anch'io mi raccomando non ci si soffermi solo su questo perché la vita nella divina volontà comporta anche questo questo è un aspetto fondamentale ma non si riduce mi raccomando a questo questa domanda interrotta poi tornerà salve padre se mi fondo nel fiat divino e verso le 15 quando faccio la coroncina della divina misericordia intanto stare sotto la croce mentre Gesù muore recitando la coroncina mi terrò proprio presente quando ci si fonde con la divina volontà immediatamente si raggiunge qualunque nello spirito evidentemente e attraverso la potenza della divina volontà qualunque realtà dove uno voglia andare quindi certamente questa è una cosa spiritualmente possibile spiritualmente possibile vuol dire che viviamo nella fede non ci si aspetti di vivere chissà cosa ma certamente che è una cosa di per sé possibile felice papalia dice nei fioretti e nelle giaculatorie da offrire la regina nel cielo nel regno del vino non tempo se nel cielo rivedere più volte durante il giorno o basta farli una volta per ogni giorno di maggio se è un adesso io non li ricordo tutti quanti cioè se è un'opera singola certamente basta farlo una volta se il fioretto è durante la giornata fai questo e quindi che si capisce insomma che è un'attenzione da procrastinare nel corso della giornata lo si farà nel corso della giornata quindi se è un atto singolo sì altrimenti no Rosi Biffi dopo la comunione è bene recitare l'atto di fusione l'atto di fusione secondo me e io conosco più di qualcuno che fa così soprattutto va recitato quello esteso dopo la comunione quel momento insomma dove siamo già fusi d'accordo con Gesù che sta dentro di noi quindi è una delle preghiere a mio avviso da dire durante il ringraziamento anche quando parte il ringraziamento che è la cosa migliore perché il ringraziamento che spero che tutti coloro che vogliono vivere nella divina volontà evidentemente non abbiano come dire la grossolanità di prendere la comunione e sparire dalla circolazione perché insomma questa è una delle primissime cose da fare proibito in maniera assoluta capito cioè ecco quindi chi fa la comunione si metta bene in testa ecco spesso dopo questo periodo di quarantena per la fruttuosità ovviamente della comunione io ovviamente non voglio andare contro l'insegnamento della chiesa lungi da me la chiesa dice che per accostarsi illecitamente alla comunione bisogna essere in grazia di Dio su questo non si transige ecco però perché la comunione porta i frutti di santità bisogna fare buona preparazione buon ringraziamento e cospicuo ringraziamento altrimenti la comunione come meditazione di questa mattina forse Gesù esce in in certa comunione forse di ieri mattina o forse no era la catechesi di ieri sera altra cosa che faccio quello a fondo si deve dire la volontà dice mi prendono nella santa comunione e io esco addolorato e ferito capito quindi attenzione l'atto di infusione sicuramente anche quando parte il ringraziamento spontaneo che è la cosa migliore quindi una fusione da cuore a cuore con Gesù quando finisce l'effusione personale prima di congedarsi dal Signore a mio avviso è sempre bene recitare l'atto di fusione se il cuore dovesse essere freddo certamente l'atto di fusione prima lo si fa è meglio insomma no Giampaoletti Maurizio unendosi all'umanità di Gesù facendo un atto insieme a lui e quindi a tutte le creature è come se tutte le creature facessero un altro santo insieme a me per esempio fanno un rosario sì sì è una cosa reale perché ripeto che è nella divina volontà quando si dice io metto il mio ti amo dappertutto quindi mi fondono la divina volontà per piegare il rosario quindi io porto i frutti di questo rosario a tutti e porto tutti nel mio rosario questo è un fenomeno certamente spirituale è un fenomeno che certamente non significa che tutti gli altri sono sentati da recitare l'osario per questo non è sostitutivo di ciò che la persona fa così come le grazie che questo arrega alle persone non sono automatiche ma funzioneranno nella misura in cui le persone sono disposte a riceverlo in ogni caso questo è una realtà indubbiamente presente e foriera di beni oggettivi per sé e per tutti dove si trovano esattamente i podcast sulla creazione nel suo sito devo andare nell'area download il mio sito ha un'area download che non è nella home page in alto sulla destra sul mio sito web c'è una cosina una specie non saprei come chiamarlo adesso lo riguardo con attenzione ci sono tre lineette in alto a destra vediamo un po' se riesco a farlo girare eccolo lì ci sono quelle tre lineette in alto a destra se uno clicca qui vedete il canale download clicca qui clicca sull'area download entra nell'area download e eccoli qua vedete qui ci sono le icone e qui ci sono l'elenco delle cose contenute sulla sinistra si scorre in basso per esempio i giri uno va alla G eccoli qua giri nel fiat creante giri nel fiat redimente non ci sono quelli nel fiat certificante perché devo ancora caricare il podcast che ho fatto questa mattina spero di essere stato esaustivo comunque i podcast tutti i podcast che ci sono sul sito per chi usa gli strumenti li trovate anche quasi tutti su iTunes Store per chi ha l'iPad o l'iPhone o su Google Podcast per chi ha Android dico questo qui perché quando si fa un abbonamento a un podcast quasi nessuno conosce queste cose è di una comodità straordinaria perché il podcast tu ce l'hai sempre dietro e con una piattaforma molto molto maneggevole puoi tenerlo sia sul cloud che scaricarlo e tra l'altro se tu ti abboni al podcast per esempio i giri sul fiat creante sul fiat redimente sul fiat certificante saranno aggiornati in continuazione d'accordo quindi quando io faccio una nuova trasmissione quando faccio un giro nuovo se tu hai l'abbonamento al podcast immediatamente sarai avvertito guarda che c'è una nuova puntata e te la trovi già sul dispositivo d'accordo è come se non avesse un feed rss ecco ok quindi è molto è molto importante per chi è ovviamente interessato a queste cose non specialmente per i podcast che sono in continuo aggiornamento e buonasera Donaldo per iniziare in modo pratico lo guardo esercizio come direzione iniziare esiste uno schema giornaliero guardi insiste quindi chi nesta la invito a partecipare sulle dirette streaming per vedere come si fa una meditazione già domani mattina alle 8.30 sulla mia pagina facebook così vedrà sul sito dove ho visto le meditazioni su primi 10 volumi sono già complete si chiamano come ci si prepara a vivere nel fiat supremo d'accordo ci sono le meditazioni su primi 10 volumi dal primo al decimo quindi e e così potrà piano piano imparare allora la possessione demoniaca ne parleremo se vuole lunedì ci abbiamo 36 secondi allora equilibrio sempre in tutte le cose scoraggiamenti vengono sempre dal demonio calamita 73 quindi coraggio questo mondo divino in cui ci si entra piano piano con calma nella pace senza fretta senza rimbalzi sapendo che Dio lo vuole più di noi ci dobbiamo salutare perché su Instagram ci toglie la parola alla prossima settimana ave ave e quindi la prossima settimana la prossima settimana